Il Cifa, l'accoglienza è sempre al top. Ai nostri ospiti consegniamo le chiavi dell'azienda. Mi piace vendere Cifa. Con i clienti parlo di spot, cucina, vacanze, perché le macchine si vendono da sole. Metto la prova al lavoro degli altri. È per questo che tutti mi vogliono un gran bene. Qualità significa fare le cose bene anche quando nessuno ti sta guardando. Lo vedo ogni giorno e lo posso dire anch'io. I nostri tagli non passano mai di moda, anzi, anticipano. Salvo lamiere tutti i giorni, ma anche amicizia con i miei colleghi. Ogni reparto è sempre ordinato, efficiente e senza sprechi. Proprio come mi vorrebbe mia moglie. Montare una macchina Cifa è come un paso da 100.000 pezzi, ma alla fine escono sempre dei capolavori. Qui all'ufficio ricambi siamo tutti tipi un po' originali. Conosco bene queste macchine come le mie tasche. Potrei lavorare anche vendato. Mettiamo a dura prova la resistenza delle macchine. A volte, anche la nostra. Rispondiamo addirittura a domande che non ci hanno mai fatto. E di così. Leggera, potente, affidabile, ma bella e possibile. Tranquilli, ho insegnato anche a mia suocera a cucinare. Anna Paolo Alessandro. Sara Cristian Lucia. Ogni volto ha un nome. E noi li conosciamo tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.